Priolo, reiterate evasioni dai domiciliari 26 anni tradotto in carcere. Agenti del commissariato di Priolo hanno arrestato un uomo di 26 anni in atto agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. La misura di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla Corte d'Appello di Catania. L'arrestato dopo le incombenze di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Siracusa in contrada a Capadonna. Grazie a tutti.